Buonasera a tutti, sono Santino Caravelle e volevo invitare tutti gli amici di Cerignola dai bambini ai nonni, dai zero ai 99 anni, domenica 9 giugno alle 9.00, 9.30, avanti a Palazzo Fornare, Piano delle Fosse Granare. Ripeto, Palazzo Fornare, Piano delle Fosse Granare, domenica 9 giugno, 9.30. Ah, vi dico pure il perché, dobbiamo registrare il videoclip ufficiale di Selfie Incapitanata, un tour che vede protagonisti 61 comuni della provincia di Foggia e visto che Cerignola è un grandissimo comune della provincia di Foggia, non può mancare. Quindi il 9 giugno ci vediamo a Cerignola, al Palazzo Fornare, Piano delle Fosse Granare. A proposito, sono Santino Caravelle, se non l'ho detto prima, lo ridico ma, ma vi sto aspettando, adesso non venite, state messi male male male, Selfie Incapitanata. Cerignola, 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 cerignola.